Sono in condizioni drammatiche i garage delle case Ater di via della Martinica d'Ostia. A causa di perdite d'acqua e un impianto fognario ormai a pezzi, i posteggi sotterranei sono abitati da rane e rospi che si fanno sentire in vari momenti della giornata come se vivessero in una vera e propria laguna. Acqua, liquami e cavi scoperti. Si rischia un'emergenza igienico-sanitaria ma è totalmente assente anche la sicurezza per chi abita nelle palazzine. Io sto al primo piano e tu senti pure i rospi, i rospi, i rane. Io ho detto qualche giorno mi esce una anaconda dalla finestra che io al primo piano mi esce da me. C'è una marana, una sporcizia a non finire, dove te giri bottiglie, acqua a quitrini, acqua ferma. Ora c'è un tubo dell'acqua della scala I che esce proprio a getto forte. Una signora mi ha fatto vedere della scala I, ha detto che hanno chiamato la scena ma ancora non si vedono. Cioè esigenza acqua, che non abbiamo acqua, lo spreco ancora più. Cioè noi dobbiamo stare attenti, però loro c'è i perdite, non gli interessa niente. Noi abbiamo l'acqua che corre sotto, praticamente si sentono i rospi, i rane, c'è il laghetto lì, qualche altra specie di animale sicuramente troveranno. C'è una puzza allucinante, c'è proprio lo scarico, penso tutte le fognature vadano là. Io sotto non ci sono mai andata nel garage, però c'è veramente rane, rospi proprio. Se voi venite di sera e sentite che canti ci sono là sotto. Ormai saranno dieci anni che purtroppo gli abitanti vedono delle continue perdite. Perdite all'impianto fognario, quindi con tutta la parte che tu ti puoi immaginare, veramente terribile, di bisogni umani, urine che praticamente va a invadere l'area dei parcheggi. E poi le perdite idrauliche che ci stanno proprio in giro per la palazzina, all'interno degli appartamenti con infiltrazioni, muffa ovunque. Cioè addirittura il quadro è così tragico all'interno di queste case Ater che in alcuni rubinetti di alcuni appartamenti da anni scorre acqua colorata, acqua rossa, acqua marrone. E tutto poi si ricollega anche con queste infiltrazioni all'aspetto dell'elettricità, perché cavi del telefono, cavi elettrici vengono bagnati da queste infiltrazioni e quindi poi vengono a peggiorare, come dire, una situazione di malfunzionamenti interni alla palazzina da mettersi veramente le mani nei capelli. Intanto il problema legato alla telefonia non è stato risolto. Questa mattina però c'è stato un primo sopralluogo da parte dei tecnici incaricati. A quanto pare non hanno potuto svolgere il lavoro necessario alla riparazione del guasto proprio a causa delle perdite d'acqua e fognaria.